Buongiorno ragazzi, cominciamo brevi cenni su Giotto. Chi è Giotto? È prevalentemente un pittore. Che cosa ha fatto? Ha avuto una vita prevalentemente in Toscana, lui si chiamava Ambrerogio di Bondone, pensate, e veniva chiamato Giotto. Questo signore qua ha passato quasi tutta la sua vita in Toscana e in qualche maniera è stato l'iniziatore di questa ricerca, abbiamo anticipato nella precedente riduzione, di una rappresentazione tipo prospettico, che per lui era irrinunciabile. Dobbiamo dire che finirà la sua vita senza raggiungere una reale rappresentazione prospettica, che succederà nel primo rinascimento con Brunelleschi. Ma le prove del nostro Giotto restano comunque interessanti. Parte e si forma con Cimabue. Difatti, quello che vi chiederò è poi di fare un confronto tra i diversi cocefissi dipinti che hanno fatto. Tra lui e Cimabue ce ne sono diversi, ce ne sono in diverse città, quindi vale la pena di guardare da questo tema narrativo come se ne sono occupati questi artisti e anche altri successivamente. Ed è diverso pensare a un quadro, una pala d'altare che racconta di una crocifissione, ed è diverso parlare di un crocifisso dipinto. Il crocifisso dipinto è un tema molto interessante che viene affrontato non da tutti. Abbiamo detto che quasi sempre lui si occupa di raccontare della sofferenza umana. lo fa in che maniera? Sottolineando nella narrazione dei corpi una reale, da quel punto di vista della figurazione anatomica possiamo dire reale, figura sofferente. Vi condivido l'immagine del manuale così tentiamo di capire che cosa ci stiamo raccontando. Questo Cristo è uno dei Cristi sofferenti, perché lo diciamo testa bassa, costato sanguinante. questo è un modo per raccontare come nella chiesa di Santa Maria Novella a Firenze Cristo abbia dovuto soffrire per salvare tutti gli uomini ed è abbastanza interessante. Giotto per noi in maniera irrinunciabile è l'uomo che ha decorato la Basilica di San Francesco d'Assisi e l'uomo che ha decorato la Cappella degli Scrovegni a Padova. Queste due cose sono preziosissime per la nostra storia dell'arte e sono preziosissime per la ricerca che ha fatto Giotto e che è questa rappresentazione articolata degli spazi. Qui vedete storie di San Francesco, particolare della ricorazione pittorica della quarta campata a destra. Ma in realtà noi che cosa dobbiamo guardare? Oltre alla narrazione a fumetti, perché voglio dire è un antesignano di The Walt, il nostro Giotto, sia la Cappella degli Scrovegni sia la Basilica di San Francesco d'Assisi raccontano gli episodi della vita nella Cappella degli Scrovegni di Gesù e nella Basilica di San Francesco, appunto di San Francesco, racconta per episodi quello che è la vita di queste persone. La inserisce in luoghi abitati, luoghi abitati da tante persone e elementi naturali, a seconda della narrazione. Ok? Quindi in qualche maniera l'elemento architettonico è quello che lui cercava per riuscire a rappresentare più facilmente la prospettiva. Come potete vedere, queste casette sono stupendamente assonometriche, ma non fa niente. Lui ha cercato questa cosa. La vita di San Francesco è tutto quello che lui racconterà in diversi momenti. Nel caso di Assisi, vedete il presepe di Greccio, vedete per esempio il dono del mantello, lo vedevamo prima nelle tre immagini, era quella centrale dove appunto dominava la natura. A me piace molto anche la cacciata dei diavoli per farvi capire come articola lo spazio, ma sono diversi esempi giusto per inquadrare la relazione tra la figura umana e l'ambiente naturale che è intuitivamente reso in maniera prospettica e anche qui la figura umana in relazione all'architettura. Qui possiamo vedere invece nella Cappellate di Scrovegni la deposizione del Cristo morto, il compianto sul Cristo morto che abbiamo visto già la volta scorsa, o adesso, ma non mi ricordo più, dove questo autore dice funziona lo spazio reale dello spazio dipinto. In realtà la funzione lo spazio reale dello spazio dipinto nel caso della composizione di Giotto è uno spazio reale nel senso che cita degli elementi riconoscibili, quindi nessuno di noi non direbbe che questo è il Golgotha dove è stato crocifisso e è stato deposto dalla crocia, come nessuno di noi non riconoscerebbe le città che lui rappresenta nelle sue rappresentazioni, però non è sicuramente quello che interessa lui, ma l'articolazione dello spazio, la composizione visiva dove contrappone le figure. Se questo, voi ricordate la storia del Titanic, i due amanti che erano lì a godere del vento, beh, questa persona che sta soffrendo si sta disperando, vedete un po' come non è stata citata con quelle braccine che vanno all'indietro per dire tutta la disperazione, se quelli su la nave erano ancora felici in quel momento, questa invece esprime con queste braccia completamente aperte la propria sofferenza, quindi è un movimento che parte dalla testa del Cristo e si allunga sino a queste braccia e si restringe sino alla fine di questa collina, quindi in qualche maniera lo spazio è stretto, ampio, stretto, questa è una dilatazione che compie, quindi questo spazio dipinto non è uno spazio reale ma è uno spazio che lui simula e coscientemente dilata in maniera diversa nella sua composizione. non mancano anche nel caso di Giotto le madonna in trono anche in questo caso vedete non cambia nulla angioletti, altre figure, madonna, seduta, frontale, è più frequente la visione frontale. Detto questo noi abbiamo finito questo manuale delle giorni marmotte e siamo arrivati sino a Giotto. buoni approfondimenti e ci aggiorniamo alla prossima video lezione.